Ciao ragazzi, eccoci al complemento di allontanamento-separazione che è un nuovo ennesimo complemento indiretto. Il complemento di allontanamento-separazione indica la persona, l'animale, la cosa o il luogo da cui qualcuno o qualcosa si allontana in senso vero e proprio o figurato. Ecco questi termini che abbiamo trovato più volte, vero e proprio vuol dire che è qualcosa di concreto, toccabile. Figurato è qualcosa che io non posso toccare, è più una condizione da cui io in questo caso mi posso allontanare o separare. risponde alle domande da chi, da che cosa, da dove. Facile anche questo complemento ed è introdotto dalla preposizione da sia semplice che articolata. Vediamo gli esempi. Daniela si tiene lontana dal mare. Da cosa si tiene lontana Daniela? Dal mare. Allora, dal mare è il complemento di allontanamento o separazione ed è un complemento di allontanamento o separazione vero e proprio perché io il mare lo posso toccare, d'accordo? Ma se io dico Giulia si è allontanata da Roma per motivi di lavoro, siamo anche qui di fronte, innanzitutto rispondi alla domanda. Da dove si è allontanata Giulia? Da Roma. Allora, da Roma è il complemento di allontanamento o separazione. Anche qui vi torna, è un complemento di allontanamento o separazione in senso vero e proprio perché Roma è una città che io posso toccare. Ma vediamo quest'altro esempio. Filippo si allontana sempre dalle sue responsabilità. Da dove si allontana sempre Filippo? Questa è la domanda che viene su spontanea e che è quella legata al complemento di allontanamento o separazione. Ma la risposta è dalle sue responsabilità. Quindi dalle sue responsabilità è un complemento di separazione o allontanamento. Ma le responsabilità sono qualcosa di concreto o è un modo per dire che lui non fa quello che dovrebbe fare? È un modo di dire. Quindi dalle sue responsabilità, siccome non è un luogo concreto, una cosa concreta, è complemento di allontanamento o separazione figurato, si dice. D'accordo? Tenete presente anche che il complemento di allontanamento o separazione dipende da verbi, nomi o aggettivi che indicano allontanamento come allontanare, tenere lontano e separare, che ora vi metto in rosso perché mi è sfuggito. Ok? Quindi questi verdi ci aiutano a individuare che siamo di fronte a un vicino, quando ci sono, a un complemento di allontanamento o separazione. Attenzione! Però il complemento di allontanamento o separazione può essere espresso anche dalla particella verbiale ne, che sostituisce una parola che noi non ripetiamo per non creare un appesantimento della frase con delle ripetizioni di parole. Quel ragazzo non mi piace, allontanate, allontanatene, scusate non leggevo il cosa ci avevo scritto, allontanatene, vuol dire allontanati da quel ragazzo. Ok? E qui questo ne si mette per non ripetere da quel ragazzo. Ok? Quindi questo ne che sarebbe da quel ragazzo risponde alla domanda da che cosa o da che cosa o da chi io mi devo allontanare? Perché io mi devo allontanare da chi? Da che cosa? Da quel ragazzo. Ma siccome io non ho ripetuto da quel ragazzo per non creare una ripetizione, ho messo una particella verbiale, questo ne è complemento di allontanamento o separazione. Allora, chiaramente ragazzi, se ci sono domande fatemene nella lezione online, però ripeto, ne sta al posto di quel ragazzo. Non ce l'ho messo per non creare una ripetizione. Quindi, io individuo che sto dicendo, qualcuno mi sta dicendo anzi, di allontanarmi da qualcosa. Allontanarsi sta a indicare appunto una separazione, no? Allora, io mi devo porre la domanda. Da che cosa? Da chi mi devo allontanare? Da quel ragazzo. Ma quel ragazzo non è ripetuto qua, accanto ad allontanarmene. Ci è stata messa una particella avverbiale ne per non creare una ripetizione. Allora, è questa che io devo indicare come complemento di allontanamento o separazione. Poi, io potrei anche, devo anche fare attenzione, tra complemento di allontanamento o separazione e complemento di moto da luogo. Perché? Vediamo gli esempi. Lo stretto di Messina separa la Sicilia dall'Italia. dall'Italia è complemento di allontanamento o separazione perché risponde alla domanda da che cosa la Sicilia separa, lo stretto di Messina separa la Sicilia? Da che cosa? Risponde alla domanda da che cosa? Quindi, a che cosa lo stretto di Messina separa la Sicilia? dall'Italia. Siccome da che cosa è la domandina relativa al complemento di allontanamento o separazione, dall'Italia è complemento di allontanamento o separazione, vero e proprio, perché lo posso toccare, ok? dall'Italia la posso toccare, perché si intende da che cosa la separa, no? lo stretto di Messina, la Sicilia. Ma invece se mi trovo davanti alla frase la scorsa settimana sono tornato dall'Italia, dall'Italia è complemento di moto da luogo perché risponde alla domanda da dove sono tornato? Da dove sono tornato? Cioè da dove provengo? E allora dall'Italia è complemento di moto da luogo perché da dove sono tornato è la domanda relativa al complemento di moto da luogo. Le domande alla lezione online se ne avete. Buono studio!